Il podcast, questa idea è nata molto così, su due piedi, universo femminile lo svisceriamo per bene, quindi ragazzi, ragazze, questo podcast è dedicato a noi, è fruibile da tutti, anzi noi invitiamo soprattutto maschi ad ascoltare questo podcast e le successive puntate perché ho il presentimento che ne vedremo delle belle. Allora, primo tema che vogliamo trattare è relativo alla dieta, al deficit calorico e alla gestione della fame. Prima di questo però capire come riconoscere i segnali della fame reale da quella mentale, da un altro tipo di fame. Marghe, tu affronti spesso questo tema o no? Ma praticamente H24, alcune ore dormo. No, sì, diciamo che è un problema, uno dei maggiori problemi soprattutto di chi ha fatto tante diete, capire quando la fame sia reale e quando invece sia mentale, nervosa, emotiva. A me non piace tanto il termine fame nervosa perché mi rendo conto che tagli fuori un sacco di variabili, no? È più veramente, io la chiamo fame emotiva, anche perché fame nervosa si associa sempre a qualcosa di brutto, no? Cioè sono nervosa oppure sono arrabbiata e mangio. In realtà sempre più persone mangiano a prescindere da quello che è l'ambito dell'emozione, bello o brutto. Cioè un'emozione scatena la fame, ma può essere anche un'emozione bella perché spesso uno pensa, cacchio sono così felice, mi devo rompere le palle con la dieta e allora mangio. Oppure sentono la felicità e hanno quasi bisogno di celebrarla, cioè di esaltarla e allora mangiano. È come se un momento senza cibo fosse meno bello e quindi a me piace più dire fame o voglia di mangiare emotiva. Riconoscerla richiede un lavoro di estrema introspezione e soprattutto prima di riconoscere la fame emotiva bisogna imparare a riconoscere la fame. Ti ricordi infatti noi dicevamo proprio poche settimane fa parlavamo dell'intuitive eating e di come in realtà ci ha cambiato la vita e di quanto sia limitante chiamarlo intuitive o mindful eating, quel che sia. Poi lo affronteremo magari in un'altra puntata, però il nostro il nostro punto era se non si riesce a distinguere la fame reale da un altro tipo di fame, come si può pensare di alimentarsi intuitivamente? Cioè partiamo da là. Quindi in questo caso io mi trovo completamente d'accordo con te e riconosco che sia un grande ostacolo verso il miglioramento della propria composizione corporea o il lavoro che si può fare su se stessi con alimentazione e allenamento poi. Cioè che sia veramente limitante. A fratti a te è capitato mai di imbatterti con te stessa magari sia per te stessa che con magari persone che segui? Ma parli dell'intuitive? No parlo del fatto di lavorare su riconoscere la fame. Allora come stessa mi è capitato. Allora ti dico una cosa. Questa seconda prep che sto facendo, soprattutto questa, sto imparando veramente cos'è la fame? Vabbè, è tutto dire, no? Però a parte gli scherzi, forse sto anche maturando io, non lo so. Sto veramente imparando a riconoscere la fame vera, a prescindere dal fatto che chiaramente sto in deficit calorico e quindi la fame la sento. Ma mi sono ritrovata spesso in situazioni sociali, ok? Dove se penso alla me di qualche anno fa avrebbe mangiato per festeggiare, come dicevate appunto prima, perché altrimenti cioè cosa vai a fare, cosa vieni a fare. Perché ti rendi conto quando sei in prep che invece non credo magari all'inizio di una prep o proprio la tua prima prep, perché ancora sei un po', devi ancora un po' capire. Ma adesso che mi sento molto più atleta, mi rendo conto che a me fa proprio piacere andare a un evento sociale e riuscire a fare la mia dieta, ma stare con le altre persone. Ed è un traguardo mica da poco perché la scorsa prep, sempre per parlare di prep, sono riuscita a farlo molto meno e mi sono preclusa giustamente un po' di eventi, insomma, quello che poi succede, cioè nel senso andando avanti, quello chiaramente è un discorso che per forza di cose non tutto si può fare sempre. Però anche quando magari avrei volendo potuto, l'ho eliminato a prescindere perché sapevo che l'avrei vissuta male, ok? Anziché godermi, diciamo, la compagnia e le vente. E mi fai tornare in mente... Quindi mi sento molto... Scusami, mi fai tornare in mente un qualcosa che riconosco spesso in molte ragazze che seguo, mi è capitato in passato, ma anche attualmente. Non è il tuo caso, però, quando non si è pronti ad affrontare un cut, un deficit calorico o, peggio ancora, una preparazione per una gara e banalmente comunque si sta in deficit calorico e si partecipa a un evento sociale che sia un compleanno, una festa, qualsiasi cosa, e non si ha quell'intimità con ciò che si sta facendo, ma ci sbasa sulla forza di volontà, l'ostinazione, no? Sto facendo questa cosa, io sono forte, lo devo fare. E quindi magari la persona si attiene alla dieta, non tocca niente rispetto a ciò che, insomma, è presente lì in quell'occasione, però poi torna a casa e svuota il frigo. Eh, Marghe? Ti suona? Abbastanza, ma non solo relativamente alle preparazioni, cioè una dinamica proprio da dieta. Esatto. In realtà quello che io noto molto spesso è che passare dei periodi dove tu senti la fame e la senti magari anche costantemente e la senti tanto, sul momento non ti turba, ma quello che poi ti turba è il ricordo che ti resta. Quindi è come se poi si attivasse un allarme per il quale tu poi arrivi ad aver paura di sentire la fame. Cioè la maggior parte delle persone che io seguo mangia preventivamente, perché non si ha tanto paura della fame, ma si ha paura di tutti quei processi che possono essere poi innescati dalla fame, perché poi adesso apro un attimo una parentesi, no? La fame è una cosa primordiale, quindi è fatta apposta, cioè la nostra mente, il nostro corpo si è evoluto affinché fosse uno stimolo a cui fosse difficile resistere. Quindi è fatta apposta per bypassare tutta la parte della razionalità. Quindi più tu sentirai la fame, più questi messaggi saranno divampanti proprio, no? Cioè tu dopo un po' non ce la farai più. E quindi non si ha tanto paura di avere fame, ma di quello che può succedere se io ho fame e devo tenere la fame, che tendenzialmente è ho fame, penso che non ci sia niente che posso mangiare o non ho il cibo che mi hanno detto che devo mangiare, resisto, 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 poi mangio 30 grammi di cioccolato al posto che 20 e allora basta, la giornata è buttata, mi abbuffo. Il messaggio che viene registrato è non posso arrivare a sentire la fame perché sennò non sarò in grado di controllarmi. E questa roba devasta la fiducia in se stessi in una maniera viscerale. Sì, io ho dovuto far la pace con la fame, quindi vi racconto un'esperienza mia personale. Questo perché tanti anni fa ho avuto un problema di salute che mi ha costretta in ospedale, proprio ricoverata e alimentata con una flebbo sostanzialmente perché ho avuto il morbo di Crohn e non potevo mangiare nulla e ero già arrivata comunque in ospedale in condizioni veramente pessime. ero già sottopeso perché comunque è una malattia un po' subdola, non la si scopre subito. Ci abbiamo messo un po', per fortuna ho avuto un'appendice che è andata in peritonite e quindi abbiamo fatto il tutto tempestivamente. Però il problema quale è stato? Sono stata chiusa in una stanza, alimentata con una flebbo, poi rilasciata dopo tante settimane e sono arrivata a casa che pesavo 48 chili e mezzo, io, e non potevo mangiare, cioè avevo una scaletta da seguire, prima soltanto vellutate, di verdura, poi pian piano. E ragazze, io ho sperimentato una fame, ma che già di mio sono sempre stata comunque abbastanza famelica e golosa e quant'altro. Arrivata a quel punto ricordo proprio che la sensazione mi penetrò profondamente e da lì gli anni sono passati, ma il minimo stimolo della fame, ci sono stati periodi che io scappocciavo completamente, la rinnegavo. Fame? No, io non sento fame, io non ho fame. E quindi mi sono ritrovata veramente negli ultimi anni in pace con la fame e grazie al fatto che ho fatto un percorso personale, tanta introspezione e soprattutto libertà alimentare. E questo mi ha fatto capovolgere la situazione, anzi ricercare la fame. Cioè per me adesso è un grande stimolo, nel momento in cui ho fame, sono quasi gioiosa in questo periodo perché sto comunque facendo una preparazione, quindi accolgo la fame nel senso di, ah, bene, molto bene, sto facendo il mio dovere, il mio lavoro. Ma prima ancora era un incentivo a gustarmi di più il pasto, quindi ecco ho famina, perfetto, fammi vedere un po', ok, devo ancora sbrigare del lavoro, poi dopo si cena, però ho un rapporto adesso totalmente diverso e sono contenta, insomma, ognuno di noi ha una sua evoluzione personale e la mia in questo senso ha dato i suoi frutti. Perché poi è anche un po' un imprinting, no? Cioè quando tu passi tanto tempo a fare dei pasti e non essere mai sazia, poi non riesci ad avere confidenza con il fatto di avere fame, perché dici, sì, ma comunque non sarò sazia, quindi devo mangiare prima che mi venga, perché così non me ne accorgo. Però a me, per esempio, è successa la stessa cosa che a te. Io prima avevo, cioè non mi piaceva avere fame, adesso invece non riesco a mangiare se non ho almeno un... cioè mi sembra di dire ma perché, cioè, a cosa mi serve. Poi scusate, faccio una parentesi perché poi non si sa mai chi si trova dall'altra parte. Ovviamente io sto parlando di me, che sono una persona normopeso, che riesco a riconoscere la fame e che quando ho fame la accolgo. Ci sono persone che rifiutano la fame e che a cui la percezione della fame dà una sensazione di debolezza e allora questo discorso ovviamente cambia, Perché quelle persone non possono fare affidamento sulla loro percezione e allora vanno rieducate dall'altra parte. Non è facile seguire le persone in questo senso, per questo è importante un lavoro di team, un lavoro di squadra. invece per addentrarci nel discorso cravings e ci addentreremo in questo discorso in modo magari un po' scansonato e simpatico così per non appesantire questo primo podcast, poi magari se il tema interessa successivamente possiamo tuffarci negli abissi di questo di questo universo. Ma vogliamo parlare dei cravings che potremmo avere adesso? In generale, se li avete sperimentati, se avete delle tips per gestirli? Ma allora io personalmente li ho sperimentati, mi è capitato in passato, ti parlo di un paio, forse tre anni fa, quando mi sono approcciata appunto la mia prima fase di deficit calorico da, non da atleta ancora diciamo, però da persona che si approccia a questo mondo fitness fantastico che fa fasi di costruzione, fasi di deficit calorico e mano nero, come dicevamo appunto prima, forse mentalmente troppo pronta. Quindi sì, ho fatto tutta la mia fase di deficit, ma l'ho vissuta con dei cravings un po' fastidiosi che tentavo nel mio piccolo all'epoca stupidamente di togliere o far assopire un po' tramite la visione di quei famosissimi video YouTube dove la gente mangia e tu la guardi e ti fai venire ancora più fame in realtà. Però quello è stato un metodo che all'epoca, come? Funzionava! Mi piaceva, mi dava calma mentale. Io questa cosa la sapevo, giuro. Davvero? Lo giuro. Ma perché io ero quella che mangiava nei video di YouTube probabilmente? Io non capisco, io non capisco una cosa, no? No, io mangio da tutta la vita, ma perché non mi sono mai messo una telegamera davanti e ho cominciato a riprendermi mentre mangiavo? Ma dov'ero? Che facevo? Avresti fatto veramente il boom perché quei video là vanno veramente tanto e ti dico, ad oggi so che quella me aveva un... cioè stava attuando dei meccanismi sbagliati, ok? Perché sì, perché poi in realtà guardavo quel video e poi pensavo tutto il giorno a quello che avrei voluto mangiare, ok? Quello che magari avevo visto, eccetera, eccetera. Ad oggi quei video non esistono, cioè non proprio... Ok, ciao, è stato bello. E quindi i cravings però non ne ho in realtà perché sto troppo bene, sono focalizzata, sono tranquilla, poi vabbè, seguo un'alimentazione molto flessibile ancora, quindi se voglio assaggiare quella cosa, l'assaggio, cioè, capito? Contando i macronutrienti, qualcosina qui e là che insomma un po' meno fit la mangia ancora, quindi per adesso ancora il mio cervello è molto easy. A parte che sono veramente stupita da questa roba e questo mi fa pensare come ogni testa sia diversa, no? Perché tipo pensare di avere fame, vedere della gente che mangia, a me mi farebbe arrabbiare tantissimo. Ti dico una cosa, c'è un mio caro amico che anni fa lui si preparava per le gare, ha fatto tantissime gare, una volta eravamo a pranzo, lui era con la sua schiscetta, la sua insalata e io stavo postando una ricetta sulle Fibistro, che è il mio secondo profilo su Instagram dedicato al cibo, alle ricette. e lui fa, ah ecco, vedi, le ultime ricette me le ero perso. Ma perché? Eh beh, ti ho defollowata. Scusa, non ho capito. Mi fai sì, te l'ho tolto il follow, sto in preparazione e mica ce la faccio a guardarti. Aveva ragione, lo capisco, lo capisco. Io penso agli istinti omicidi che mi venivano verso le persone che mangiavano paraggi di chilometri intorno a me mentre ero a dieta e, cioè, questa roba qua, cioè, probabilmente sarei uscita, avrei preso il vicino, l'avrei fritto nello strutto e poi mi sarei mangiata anche lui. Però, vabbè, questo, cioè, nel senso, vedi, quanti meccanismi ci sono che non consideriamo. Ognuno ha il suo. Cremings? Prima sì, no, praticamente tutti i primi, ma forse 34 anni della mia vita e adesso no. Cioè, capita che io dica, ok, ho proprio voglia di mangiare qualcosa. E te la mangi. La mangio, però, mangio la quantità che mi serve per soddisfarmi. Cioè, riesco a fermarmi esattamente, neanche prima, no? Esattamente quando sono a posto. E questa è una delle conquiste più grandi per me. Conquiste enorme. È lo stesso per me. E in questa preparazione, specialmente, sono davvero felice di aver aspettato. Aspettato di sentirmi in questo modo, che forse dovrei descriverlo, però mi sento in pace. Quindi non c'è un alimento che mi dà cravings. Comunque, se ho fame, ho tanta fame, non mi viene annoia un alimento più succulente, più dolce, più gustoso. Assolutamente no. E quindi questo sì, questa è una conquista gigante. E quindi, ragazze, qui abbiamo aperto un altro tema per un prossimo podcast, che è come si arriva a questo? Perché già mi immagino le domande. O io lo insegno. Infatti, è vero, è vero. Fra stava dicendo qualcosa e io l'ho interrotta. Vai. No, ero incuriosita un po' da come Marche fosse arrivata questa consapevolezza solo ultimamente. No, magari, perché ho dato i primi 34 anni e tu pensi che io ne abbia pochi di più. Certo. No. No. Non volevo aprire questo discorso. Grazie. No, no, ci sono arrivata con un percorso che ha riguardato tutto, tranne il cibo. Ok. E vabbè, io premetto per chi non mi conosce che sono tipo la mosca bianca qua dentro perché non faccio preparazioni. Ma è bello così, giusto così. Sì, mi alleno per evitare la sarcopenia e perché comunque, insomma, avere la chiappa nel reto del cavo coplite non è che sta proprio benissimo. Però, insomma, ho trovato il mio equilibrio e questo non prevede ore e ore di palestra né preparazioni estreme. E ho fatto un percorso di introspezione e di smascheramento di tutto quello che poi si nasconde, no? Dietro il rapporto con il cibo o dietro il rapporto conflittuale con il corpo. Questo è. Che mi riguarda il cibo. Io attualmente, scusami Giorgia. Attualmente di tutte le ragazze che seguo, ma forse una barra due, hanno veramente rapporto, hanno veramente problemi con il cibo. E questo è un grande messaggio che già così magari arriverà a tante ascoltatrici di questa prima puntata. Abbiamo parlato del avere fame e accoglierla, no? Allora, magari una me, meno dentro il settore o dentro l'argomento, direbbe sì, vabbè, tipo come? O avete voi delle tips utili che magari possono essere d'aiuto anche a chi ci sta ascoltando? Qualcosa di vostro che funziona, che vi aiuta quando siete in deficit? Perché, ok, per esempio Marghe, tu nella tua situazione attuale non hai come obiettivo quello di gareggiare, ma nemmeno quello di abbassare la tua BF, sei bene, hai il tuo, e quindi magari in questo preciso momento non stai tu stessa mettendo in atto qualcosa, però l'hai fatto magari in passato. Ne hai memoria, ne hai memoria. Che combinate quando avete fame, 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 fame? Parto io? Vai. Allora, quando fame, 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 giusto la settimana scorsa ho fatto una story su Instagram dove mi era stato suggerito hai fame, guardati gli addominali, visto quello che devi raggiungere e fatela passare. E ho chiaramente assodato che non funziona, non in termini, insomma, fisiologici, però in realtà devo dirti che, allora, perché ho insomma un po' tanti pensieri, però tendenzialmente, tendenzialmente ti dico per il percorso che sto facendo penso a quello che voglio raggiungere, cioè lo voglio veramente tanto, il mio perché è veramente forte, quindi non ti posso trovare un'altra spiegazione al momento. e tips però per le persone, diciamo, che magari hanno un credo meno forte del mio, più che le classiche che possiamo trovare, diciamo, un po' ovunque, tipo bevi, idratati, insomma, mangia le proteine, quelli classici, ingannare un pochino la mente, la pancia, col volume, insomma, sono le classiche, col volume degli alimenti, sono le classiche cose che mi vengono in mente, che attuo chiaramente anch'io adesso, però diciamo che vivo con serenità, ecco, quindi la tip è quella. Poi le gelatine che sto trovando qua ogni tanto, le gelatine zero aiutano anche quelle, non so se voi siete molto contro o pro. No, guarda, non sono contro, però sono veramente una persona molto golosa, quindi ho un problema anche con i dolcificanti, cioè non utilizzo dolcificanti, se non un minimo, quando proprio sento che ho voglia, perché, niente, io prendo qualcosa con un dolcificante e voglio di una torta, appunto, nel senso, io ho la sua sensazione dolce, però datemi, datemi un pancake, datemi un croissant subito, però detto questo non ho niente contro le gelatine, però non mi saziano, quindi sì, voglio un food, voglio un food assolutamente, ciotolone, pieno di insalata prima del pasto, comunque verdure, e questo mi inganna anche un pochino, no? Perché, e poi, però è anche vero che ti dà una pienezza momentanea, così come il classico frullatozzo, che tutti i giorni, no? Con tanto ghiaccio, le proteine in polvere, e ci metto anche gli spinaci, acqua, oppure un po' di latte vegetale, a volte della frutta, eccetera, viene enorme, no? E quindi quello lì per lì, tutto bene, poi ti viene un po' di reflusso gastroesofageo, quindi è posto, perché è proprio full. E comunque puoi sempre prendere una gastroenterite, voglio dire. Vabbè, alla fine, vabbè, dolcificanti no, il galisco, sì. Mi sembra un po' compromesso, ci sta. Però, a parte questo, quindi non come te, nel senso che, ecco, tu magari vai a inserire qualcosa di gustoso, perché tracci macros e tutto, e io stessa preparo qualcosa di gustoso perché mi dà gioia, però non ce la farei, tipo, non ce la farei, proprio non voglio mangiarmi un pezzettino di quel dolce, e mi sento proprio che mi sto ingannando il cervello, cioè il mio cervello mi dice, ma che cazzo stai a fare? Ma tanto lo so, ma io non ne voglio così poco, ma chi sei? Ma non è vero? E quindi, così dico, d'accordo, abbiamo scherzato, non lo faccio. Marghe, tu più o meno un po' sei come me in questo, no? Allora, a parte che, vabbè, argomento gelatine, per me è assolutamente... Io devo masticare. Qualsiasi cosa non si mastichi, che sia in deficit calorico, che sia in ipercalorica, a me già mi è nervosi. E poi, vabbè, io di mio odio visceralmente tutte le robe, tipo, hai fame? Bevi. No, ho fame! Cioè, se io ho fame, ho fame! Datemi da mangiare! Esatto! Vedi l'acqua, che aiuta! Ok, ho bevuto la mia acqua, è uguale, oppure il caffè. Perfetto, io sono pazza per il caffè, vado avanti al caffè. Sono nata, praticamente, mia madre mi allattava e mi dava il caffè. Quindi adesso mi dici, hai fame? Beviti un caffè, a posto lo faccio, ma lo stomaco sta lì, che comunque grida. E anzi, insomma, più bevo caffè, più mi acido. Quindi io sento più fame. E' peggio. Allora, diciamo che io sono molto sensibile al volume, quindi mi gioco tutta quella carta lì. Poi, vabbè, ovviamente adesso non sono in deficit calorico, però ci sono stata anche dopo essermi resettata al cervello ed è stata veramente una cosa molto facile. E credo che effettivamente il punto sia percepire che questo sentire la fame sia una cosa che tu stai scegliendo e non che ti viene imposta. E attenzione, perché... Posso dirla una parolaccia? Ti prego, vai! Allora, il mio mantra è in qualsiasi modo il cervello ti incula. Quindi, se tu cerchi di fare la furba, ci puoi riuscire per un limitatissimo periodo di tempo, che più cerchi, cioè più vai avanti nelle prese in giro, più diventa limitato. E quindi tu ti puoi convincere di tutto quello che vuoi. Ma qua dietro c'è una vocina che ti dice sì. Credici. Aspetta, eh. Sì, sì. Adesso ti faccio un attimo illudere, ma poi... E quindi di base anche, per esempio, no? Io seguo anche persone che sono in preparazione che hanno fatto gare. Quel... No, io devo fare questa gara per dimostrare... Cioè già la parola dimostrare... Proprio... Cioè rilassati perché tanto nel culo ti arriva. Quindi già che lo sai, almeno ti fa meno male. Detto questo. Poi dimostrare... Perché poi c'è l'upgrade della presa in giro, no? Dimostrare a me stessa. Che cazzo vuol dire dimostrare? Perché se tu già hai bisogno di dimostrare una roba, vuol dire che non ci credi. Devi aver bisogno di una dimostrazione. Ma se tu non credi in te stessa, come pensi di poter affrontare certe cose, tra cui, per esempio, una preparazione che ti porta allo stremo, non ce la puoi fare. Poi ci sono tutte le sfumature, no? Tipo persone che magari avevano disturbi alimentari e poi entrano nel mondo del bodybuilding perché così sono socialmente più accettabili. E dico, no, devo dimostrare di aver superato la malattia. A parte che potrei aprire una parentesi sul fatto che effettivamente siano malattie, però non che non siano malattie, sennò vengo fraintesa. Cioè, sono sicuramente disturbi, sono sicuramente cose che creano problemi molto forti, però sono tratti di personalità, che si esprimono in un modo distruttivo. pensare di cancellare una malattia di questo tipo è già forviante, ok? Poi questa è la mia teoria, non parlo in nome di nessuna... No, è molto interessante. Cioè, io non ho eliminato la parte di me che soffriva di disturbi alimentari, io l'ho potenziata e ho imparato a usare quell'energia e quella potenza in modo da giocare a mio favore. Ma ci sarà sempre quella parte lì, perché, ripeto, quello che ho detto prima, non è mai, quasi mai, legato al cibo. E quindi non è che se tu risolvi il rapporto col cibo non è più il disturbo alimentare. Se tu quella roba lì che c'hai dentro, che spesso è sofferenza o abbandono o cose del genere, non la lasci libera, ma non ne vieni fuori. Magari lo camuffi, magari fai un po' di tamponi, ma non ne vieni fuori. E questo è qualcosa da affrontare prima ancora di contattare il nutrizionista in questione, il preparatore X, per ricercare una composizione corporea o, peggio ancora, per gareggiare. Quindi, in realtà, è un tema poco... poco discusso. Perché la soluzione più facile, forse no? Io pago un professionista, mi scrive nero su bianco quello che devo fare, più facile dico sì. Poi, però, a un certo punto, ne hai pagati 20 in tre anni, renditi conto che, magari, non è questo il problema, non è cambiare il coach o il professionista di turno più volte possibile, perché troverai finalmente quello che andrà bene per te. Tu prima devi trovarti. Il problema è... Esatto. Il problema è rendersene conto prima di. E non è sempre facile, perché uno ci sbatte la testa, a volte, per tanto, tanto tempo, prima di rendersi conto che è un altro tipo di percorso, quello che deve intraprendere prima. E va benissimo, va benissimo, perché poi ognuno ha i suoi tempi, anche il dire è ormai troppo tardi per me, ho perso tempo. Questo è un altro tema che mette i bastroni fra le ruote forse ancora peggio di quello precedente. L'avere fretta e il sentirsi sempre in ritardo, sempre in ritardo, poi però il tempo continua a passare e la vita, in fondo, no, si vive in avanti. Quindi, perfetto. Arrivate certe, non conclusioni, ma certe, non so, prese di consapevolezza. Conscienza. Conscienza, sì. Ecco fatto che da lì si può costruire, come dice Marghe, e sfruttare questa energia per costruire e non più per distruggere. Faccio un'aggiunta. spesso i problemi che si manifestano in questa sfera sono problemi legati alla propria identità. quindi, a volte, uno deve anche fermarsi e chiedersi, ok, ma se sono dieci anni, vent'anni, che cerco di risolvere questa roba e non ci riesco, forse è perché non voglio. E questo ha un senso, perché se la mente usa il corpo per far vedere ciò che non ha altro modo per far vedere, e il problema si risolve, poi, come fa la mente a comunicare? Cioè, se io mi identifico in un problema e risolvo il problema, ma non ho risolto quello che sta sotto, io perdo una parte della mia identità. Questa è una cosa che viene fuori in tantissimi ambiti della nostra vita, cioè, non solo con l'alimentazione, no? A volte, magari, uno usa un disturbo anche fisico o medico per farsi vedere, per attirare l'attenzione. Quel problema si risolve, poi, come attiro l'attenzione? Cioè, prevede che io mi debba, poi, fare un mazzo così per imparare tutto quello che non ho imparato fino a quel momento, cioè, come attirare l'attenzione in un altro modo. Quindi, uno dovrebbe fare un attimo un brainstorming con se stesso e dire, ma se io ho ottenuto dei risultati in altri ambiti della mia vita che magari erano anche più difficili di questo, perché questo no? Cioè, a cosa mi serve questa cosa che mi succede? Perché noi ragioniamo, cioè, stiamo fatti per funzionare sul vantaggio, ok? Quindi, difficilmente la nostra mente ci fa fare qualcosa che non è spinto da un istinto di sopravvivenza. Quindi, anche dire, ma perché continuo a fare questa cosa se mi faccio del male? È perché probabilmente questa roba ti sta proteggendo da qualcosa che se venisse fuori ti devasterebbe, ma senza proprio alcuna possibilità di scampo. Facciamo un esempio concreto, perché magari arriva meglio, no? Ed è un esempio, ne potremmo fare tantissimi. ho il piano alimentare, voglio raggiungere un obiettivo, sgarro sempre. E poi sono lì a dirti, ma perché sgarro sempre? Ma perché? Non capisco. Ma adesso ce la faccio, io adesso ce la faccio. Poi, dopo due giorni, ho sgarrato di nuovo, ma cosa c'è che non va con me? Che non è il seguire la dieta il problema. Il punto è che spesso anche, diciamo, un percorso psicologico da solo non può essere risolutivo, perché comunque se tu hai un problema nell'ambito alimentazione devi avere qualcuno che di alimentazione e di problemi con l'alimentazione un po' ci capisce, ma non che l'abbia studiato sui libri, cioè che capisca effettivamente quali collegamenti ci possono essere tra una sensazione che tu provi e un circuito mentale. Cioè, se io vado da un nutrizionista che è sempre stato magro e gli dico che ho problemi perché mi vorrei mangiare il gelato e lui mi dice no, ma lo puoi mangiare, mangia la colazione. Cioè, io, cioè, una persona deve capire che magari per te il gelato non è il gelato, per te il gelato è il gruppo di persone, il fatto che tutti lo mangiano e anche tu lo vuoi mangiare insieme a loro, il fatto di non voler essere marginato, il fatto legati a delle moci di conoscenza. Il fatto della sensieratezza di dire sono in giro, non mi sono portato niente da mangiare, non ho la cazzo di barretta proteica e voglio il gelato, prendo il gelato, cioè è una roba più complessa, ma difficilmente una persona che proprio di sta roba non ha esperienza potrà comprenderlo, così come difficilmente una persona che non ha conoscenze di alimentazione, magari poi ha conoscenze sulla mente sconfinate, però un minimo di alimentazione ne devi sapere, deve masticare, secondo me. Però ecco, devo dire che tra tutte e tre affrontiamo questa situazione, queste situazioni belle armate, abbiamo raggiunto una buona consapevolezza di questi argomenti, quindi sono felice per voi ragazze, è una gran cosa. Per tornare alle tips stupide e alleggerire un attimo e ritornare sul tema un po' più privolo, vi dico quello che faccio io, tipo me ne vado di cassa, vado a camminare, questo mi aiuta tantissimo, mi aiuta tantissimo, io prendo e me ne vado, ciao, vado via. E beh, lavorare fuori, lavorare da Starbucks anche mi aiuta perché un po' mi piace spendere soldi alimentando la mia propria da caffeina e poi perché non mangerei niente di quello che è da Starbucks, comunque non mi viene gran voglia. E poi faccio altre due cose forse stupide o comunque strane, mi lavo un sacco no, questo non l'avevo mai tentito. Sì, mi lavo un sacco tipo proprio un sapone prendo un sapone che mi piace tanto. Ah, funziona, provate. Avete fame? Basta, vi andate a fare una doccia e cose più sofisticate ragazzi no, perché non ho non ho sbatti tipo lo scrub figo, queste cose qui che per carità sono utilissime però al massimo prendo i fondi del caffè e faccio qualcosa e però mi funziona. Altra cosa faccio shopping questa cosa non buona in particolare uno faccio shopping di lingerie questa è follia mi viene proprio c'ho fame allora devo comprare quel genere di cose folle però mi funziona che vi devo dire? Beh, mi hai dato ottimi spunti lavarmi e spedere soldi beh, da Starbucks vado anch'io a lavorare per lo stesso tuo motivo adoro cioè sto bene lì mi isolo dal mondo con la mia caffeina giustamente e si lavora meglio no? La fame non c'è da Starbucks beh sì qualche trattamento di bellezza lo faccio anch'io in realtà soprattutto adesso la sera soprattutto quando ho più fame allora dico no dopo cena mi metto lì mi fascio le gambe sai faccio quelle cose lì che vanno molto di moda adesso e ti dico dato che mettermi non so un vendaggio e coprirmi mi occupa almeno 40 50 minuti io so che non mi posso muovere e da lì con la mia tisana non mi muove nessuno e poi doccia nanna e via cioè da lì alla camicia di corsa è un attimo è brava comunque nessun altro pensato di provare visto che siete fissate quei trattamenti corpo con la ceretta così dolore su dolore no allora io non sono fissata quei trattamenti corpo mi piacerebbe tanto essere fissata con i trattamenti corpo ma come ho detto prima proprio non non ho modo infatti come potete vedere non mi vedete mai con le unghie con questo genere di cose qui proprio non non fa per me però la ceretta sì cioè la ceretta lavarmi e la ceretta di base ecco essere liscia come un lombrico a quanto pare mi aiuta tanto con la fame e la ceretta è fantastica perché soffri le piene dell'inferno poi quando fa caldo devi stare appresso al fatto che sudi quindi devi tamponare con il borotalco tamponare in generale e perdi ancora più tempo bellice è una tortura praticamente altro che la fame kit di depilazione da domani avranno un'impennata proprio cosmica Marghe questo argomento ti ha fatto venire in mente qualcosa a parte diciamo un argomento specifico ma poi mi è venuto in mente quando noi due eravamo qua che tipo se ci avessero visto ci avrebbero preso per due scappate di casa no? perché dai un contesto le donne che magari stanno insieme fanno i capelli le cose no? proprio così sì sì e perché questo è un luogo comune no? quanti uomini o comunque io insomma parlando con con gli amici con Ludo loro non lo so ci vedono proprio così spesso per questi argomenti come se fosse qualcosa di delicato noi abbiamo la pelle così liscia perché poi comunque facciamo cose togliamo no caricatori di porto che aggressivamente intervengono così alla buona comunque effettivamente il fattore fisico cioè lavaggio è una cosa che viene utilizzato spesso spesso per esempio io lo uso come fattore motivazionale per andare ad allenarmi cioè se mi devo lavare i capelli io dico no vabbè già mi devo lavare i capelli almeno mi alleno perché ammetti che li lavo oggi poi domani mi vado ad allenare poi domani mi devo rilavare e no no perdo troppo tempo non ci siamo quindi vado in palestra perché tanto hai già i capelli sporchi e devo ottimizzare allora questa cosa dei capelli perché frappole tu immagino no poi allenandoci tanto sudando no di continuo dico soltanto che io pianifico il lavaggio dei miei capelli in funzione di quando ho gambe ok e mi faccio gli impacchi di olio di cocco ai capelli o comunque di un olio amla argan prima di allenarmi così dico ho fatto a Roma si dice vai allenarti con vabbè è brutto non lo dico dai io voglio saperlo in sostanza ti guardano quando i capelli unti e ti dicono non ce la faccio vabbè dai ricordatevi tutti ascoltatori che sono anche una persona fine ed elegante e quando subentra la romanità non è colpa mia comunque ti dicono che c'hai la sorca in tinta all'olio ok grande l'idea e quindi io con sta sorca in tinta all'olio vado a far la squat è fantastico perché ottimizzo il tutto e quindi mi associo a te Marghe con questo incentivo come fai tu fra con i capelli che poi si cerca pagando un giorno si e l'altro pure brava io non ho quella scusante come puoi capire altrimenti mi dovrei lavare i capelli tutti i giorni no li lavo una volta a settimana e quello è il mio massimo e tendenzialmente cerco di organizzarlo perché tanto il cardio mocello tutti i giorni una vita lì sopra quindi sudare sudo tutti i giorni quindi non c'è un giorno buono ok quindi cerco di organizzarlo diciamo se per caso devo uscire devo incontrare qualcuno che cosa che capita di rado qua ma anche in realtà a Milano però insomma diciamo che cerco di essere un po' presentabile ecco quella volta a settimana la butto lì vedete l'abbata ma chiaro sei illuminata dal sole no non è mai solo il sole ciao eco di Giorgia non ti vedevo da un po' come stai? tutto bene? sta bene però ogni tanto vorrebbe parlare con te eh lo so lo so perché io e lui abbiamo un rapporto conflittuale ma ci sono io no è lui che c'è la conflittuale con me in realtà quindi tu c'è la conflittuale con te perché il tuo ego io sono io e non è l'ego no il tuo ego ha un rapporto conflittuale con me il mio ego il mio ego ormai non è ma mi vuole anche tantissimo bene no lui vorrebbe strapparti i capelli uno a uno ma anche abbracciarti stretta stretta tanti tipo i bacini sul nasino questo è il nostro rapporto comunque detto ciò oh già che stiamo parlando di allenamento non ti è venuta scusa Fran non ti è venuta tantissima voglia di diventare mia amica sì dai ma guarda che sono in serio mica l'avevo convinta no Fran non ti conviene lascia perdere lascia perdere no no ma scusa tu le davi meno anni secondo te perché? non so ha un viso così fresco no perché si sfoga per bene eh simpaticissima ti è bella infatti adesso voglio proprio dire chiedere a te questa cosa in allenamento un esercizio uno devi sceglierne uno non tutti cioè non puoi dire tutta la scheda che ti ho fatto perché non vale la pena ok un esercizio vieni con me eh sì no perché quando hai detto di allenamento ho dato per scontato che non fossi io e lei era era quella seria era quella seria in allenamento guarda che ti lo giuro che era seria un esercizio odiettamo bulgaria erano due vai prima di tutto il bulgarian però ne ho un altro che è la pressa che io vi giuro cioè ragazze io ve lo giuro è come partorire di nuovo no cioè ma perché stai stai praticamente sdraiata è la pressa proprio è bella mi piace ok tuo fra lo squat squat con bilanciere lo amo perché perché sì perché quanto ti senti forte lì sotto credo da nessuna parte almeno per me e e l'odio perché mi crea una cagarella pazzesca cioè il giorno che so che adesso sfortunatamente non ce l'ho però c'è proprio l'ansia cioè l'ansia di andare lì e non so rimanerci quello ok però non lo so ansia ansia da tachicardia cioè tachicardia stando ferma cioè bruttissimo però è così quindi l'odio lo amo ansia da prestazione quasi per te? i bulgari delle salse e infatti la mela non cade lontana dall'albero bella i bulgari sì in tutti i modi li amo li amo profondamente ma un po' gli affondi tant'è che parte del mio cardio stesso si fa affondando in giro per la città adoro gli affondi però allo stesso modo cazza rola se fanno male e i bulgari in particolare poi adesso ho il piriforme accorciato un po' stronzo e quindi quando vado con la gamba destra ragazzi però beh si fa quindi no per il resto devo dire solo devo dire il mio preferito e e peggiore sì sono i bulgari anche per me ecco perché li devi mettere nelle schede sempre ci sono altre ragioni però mi piacciono perché devi condividere il tuo disagio eh certo però in effetti questa è una tattica anch'io monetizzo il mio disagio come? eh fa mental coach ah ecco tutte le cose disagianti che mi sono successe nella vita per non avere l'impressione di aver buttato il tempo eh devo trovare un'utilità no? quindi capito eh la dieta oppure l'allenamento eh la terapia di coppia perché faccio anche quella quindi eh devo monetizzare capito ragazze lei deve monetizzare però allo stesso modo resetta cervelli però mi viene malissimo monetizzare però le viene bene resettare cervelli sì quindi srotolare srotolare mi piace srotolare ora abbiamo deciso questo come sottotitolo ok nutrizione anarchica srotolante cervelli srotolatrice srotolatrice di cervelli oh eh abbiamo un'altra domanda che questa è forse più cazzona delle delle altre che riguarda i maschi riguarda i maschi no? perché tutti abbiamo avuto un passato eh da eh non come posso dire accoppiato fitness lover no fitness lover o comunque palestrate eh oh palestrato ho detto palestrate come mi è uscito palestrato non si sa vabbè è orribile comunque trash però prima di allora no eh la mia fisicità è cambiata tanto negli ultimi dodici tredici anni è cambiata tantissimo un po' perché sono invecchiata e vabbè è un po' perché eh comunque ero totalmente diversa e e questo ha condizionato tantissimo i miei gusti eh e quello che che adesso eh non so non dico mi attrae ma comunque eh mi salta all'occhio e prima magari non non lo faceva o non ci facevo caso non so se avete capito il tema sì tipo Marghe no esempio sei passata da vabbè no allora la mia è una storia più complicata cioè io l'idea del palestrato ce l'ho sempre avuta perché c'avevo un fratello di dieci anni più grande che mi ha fatto crescere con Canil Guerriero quindi capisci che l'esplosione del pettorale cioè era lì capito la potenza delle bicipite non è che potevo ignorarla e poi ho cercato di ignorare questa cosa sperimentando varie fisicità ma niente poi alla fine non ha funzionato bisogna sempre ascoltare l'istinto ragazzi sempre non sperimentate a caso ragazze ascoltate l'istinto no no ok e quindi adesso non ho capito qui è tornato Canil Guerriero quindi adesso è tornata allo stereotipo Canil Guerriero cioè ho provato una volta a dire vabbè dai faccio qualcosa altro perché alla fine l'aspetto non è tutto e poi ho detto vabbè ma tanto no 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 cioè sono quelle robe che uno ci cresce no si convince poi però no no non date retta a queste cose queste o altre sempre rigole vabbè poverini guarda che li crescono con questa cosa li crescono per assicurarli li crescono in questo modo dicendo che a noi non ci frega niente la verità va detta fa male ma bisogna prenderne atto perché così si possono sviluppare altre doti comunque fra è scioccata non parteciperà mai più al podcast no me lo sto godendo tutto cioè tutt'altro veramente quindi rassicuriamo tutti i ragazzi che ci seguono che andrà sempre peggio quindi se questo primo assaggio del podcast non è insomma vi è rimasto indigesto i prossimi saranno saranno peggiori e e quindi ok ho capito il tuo il tuo punto tutti i punti in realtà Marghe eh sì sì tutti meno male che li hai capiti tu perché loro alcuni punti sono proprio sono anche una persona professionale i primi quattro nanosecondi delle videocall però è bene insomma perché poi magari eh ora togliendo no le convinzioni maschili però noi stesse donne magari eh ci convinciamo di questa ci forziamo no nella convinzione di questa cosa e magari ci forziamo in una relazione che non andrà da nessuna parte tra l'altro cioè non vorrei aspetta che torno un attimo seria allora il tema sessualità e il tema alimentazione o sessualità dieta sono estremamente interconnessi ma estremamente cioè io a tante ragazze che seguo a un certo punto gli chiedo ma tu no cioè col sesso come sei messa cioè sei soddisfatta non sei soddisfatta e lì proprio si apro cioè i vasi di Pandora che probabilmente Pandora parenta la larga di cicciolina però insomma eh e no cioè poi sottovalutiamo questa roba ma alla fine fame sessualità è sempre istinto e è sempre bisogni primari sì perché possiamo andare troppo lontani e anzi quando si sta in deficit calorico no molto spesso la sessualità è minata o compromessa comunque anche la richiesta di attenzioni o di tutti gli effetti sesso cambia e ecco precisamente soprattutto se entrambi sia in cut sia in prep cala molto la richiesta di quello cala tantissimo ma è normale e e si accetta no? in qualche modo si accetta Giorgio stai cercando di ritrovare nel tuo bagaglio culturale questa cosa no non lo sto cercando nel bagaglio culturale stavo cercando stavo cercando in realtà di no 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 stavo cercando di capire se per me funziona proprio così però in realtà per me non funziona così però sono più selettiva nel ricevere attenzioni tipo prendo ti abbraccio o mi gira e quindi ti devo toccare no? allora se sono in cut magari rispetto a quando non sono in cut sono un po' più ipersensibile rispetto a questo genere di cose e quindi magari mi scoccio della serie no in questo momento no mi irrito facilmente però a parte questo e poi non lo trasmetti neanche quando ti irriti facilmente che faccio? no niente comunque vabbè voi fate la ginastica e quindi siete tutto un mondo a parte ma la la donna comune che come me si allena solo per battere la gravità quel minimo indispensabile allora io ho riscontrato questo trend evita la sessualità come la morte quando è più sovrappeso e proprio le dà fastidio anche tipo non so essere abbracciata cioè io ho uomini che hanno rischiato l'amputazione della mano perché hanno osato avvicinarsi al ventre della compagna quando tipo si sentiva gonfia perché era in preciclo oppure dopo c'è una fase iniziale in cui inizia il miglioramento in cui diventano delle satanate infatti bisognerebbe dare la dieta a lei e i drink energetici a lui e dopo però cominciano a sentire la fame e allora lì niente dopo bisogna trovare delle soluzioni perché si rischia il pestaggio ogni volta però vabbè però è un'altra attività che porta via un sacco di tempo si spera poi non lo so e quindi ecco poi diciamo che la donna si gratifica no perché poi c'è sempre quel momento in cui tu magari sei lì e dici però guarda mi balla meno l'interno coscia è così allora dici vai no vabbè poi dopo ti riconcentri però nel senso ok ok vabbè non è mai capitato che mi ballasse l'interno coscia o che notaste delle caratteristiche fisiche migliorate durante eh sì oppure riferite tipo il dorso striato beh adesso io lo devo dire siamo tutti bravi a fare i romantici e no perché ti amo ti adoro e sei la luce dei miei occhi però nessun ti amo batterà mai un oh amore il tuo culo in questa posizione è più piccolo cioè è lì voglio dire l'apice del romanticismo capito e lì altro che Pandora altro che Chakra proprio però però non ha detto il suo non è vero io a me capita allora questi di questa cosa qua mi capita mi è capitato di notare i miglioramenti durante il sesso ma sia su di me sia sul mio compagno chiaramente certamente prendo i complimenti e quelli farò sempre piacere anche va bene sì ma è lì però mi piace anche farli cioè mi piace cioè noto quelle cose è un po' deformazione professionale che si infila sempre anche quando è un po' meno opportuno ma è così e va bene basta essere felici poi cambia l'esercizio per i tricipiti perché ti vedo un po' fa ancora una serie quindi quindi anche tu ti associ al discorso di Kenny il guerriero allora anni fa prima di tutto devo dire che se vado a riguardare i miei ex in generale la media era abbastanza secca se vogliamo definirla così ma proprio secca pur non essendo io già una ragazza minutissima all'epoca ma normale ho sempre avuto un fisico abbastanza atletico diciamo però sì ero proprio attirata cioè non so cos'è che mi attirasse di questa cosa adesso non li posso guardare da lontano in quel senso chiaramente cioè proprio no vedere un dorso devo vedere un braccio devo vederli devo toccare ci devono essere soprattutto il dorso è una parte che mi non so perché questa perché ti dà la non so la maestosità non lo so c'è più di una gamba più di un culo no no attenzione no ci deve essere non sto parlando di pulipiatti no ma la coscia cioè no no la coscia non lo so non capisco per me sono le braccia per esempio tantissimo e poi in realtà il fatto che ci sia uno stacco rispetto a me perché comunque sono una ragazzona non sono pesante che dici sì che vuoi che dici sì no che condivido ah ok essendo una ragazzona alta si vede che delle due sei tu la donna della coppia comunque tra me e te sì certo amore sono io la donna e infatti mi piace il fatto che mi sento piccolina rispetto ammazza dicevo ma però ti capisco l'abito sei solida sei stoica e ricordati che ti ho portato a spagoletta dal terminal dell'aeroporto esatto esatto ma perché in realtà mi dicono ah sei grossa sei grossa non sono grossa sono alta però tipo stamattina pesavo 63 kg 800 grammi cioè non sono grossa non peso tanto e quindi diciamo Riccardo non è d'accordo con questa affermazione non è d'accordo no è andata a piangere nell'angolo perché ti ha messo il dorso dai ragazzi qua è questione di linee questione di linee di massa buona e quindi va bene l'importante è che pesi più di me dai questo questo quello fondamentale giusto Marghe non lo so io non guardo il peso è proprio una roba che per me ha smesso di le spalle io guardo tanto le spalle e la sì tutte le braccia braccia o un braccio braccia o un braccio le mani sì no raga le mani quelle così che tu te la vedi avvicinare no e dici oddio cosa vuoi sì 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 capisco capisco e ok avete non lo so sfumature che volete abbiamo ancora qualche minuto di grigio o di nero o di rosso ma il colore credo di sì non saprei non so ma li avete visti quei film lì sì 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 io li ho visti e sono rimasta così tipo ma tutto sto casino questa roba il primo libro l'ho anche letto pensa te ho anche letto il primo libro e il film 50 sfumature di grigio giusto stiamo parlando di questo di nero e di rosso tipo l'ultimo lo so l'ultimo mi lasciò perplessa per i doppiatori non capisco perché mi dispiace però veramente non potevo sentirli l'ho rivisto in lingua un po' di tempo fa e devo dire la situazione era sì leggermente migliorata però il tema sì cosa è che ti infastidisce a te Marghe cosa è che ti no no non è che mi infastidisce mi porta a farmi molte domande vai facciamo queste molte domande questo film ha fatto scalpore no perché sembrava che oh mio dio chissà cosa fosse cioè chissà cosa succedesse delle novi per te sculacciate sul culo esatto che tu dici vabbè ma cioè a me la scena che mi ha emozionato di più era quella della palestra in casa cazzo non credo che fosse proprio una palestra no che poi no fanno troppo ridere queste cose perché fanno queste storie no e dopo la gente magari vede queste storie e si sente infelice perché dice a me questa roba non mi capiterà mai però allora prima di tutto le fanno sempre con un multimiliardario che voglio dire qualsiasi cosa faccia un multimiliardario già già più facile non le fanno mai con Ronzo il meccanico di quartiere capito secondo fanno queste a parte uno degli ultimi film che ho visto che c'erano 25 minuti di scena di sesso che io dicevo ma no ma ancora tra l'altro in pausa franza però gli altri ma dovrei registro su quale sito no c'è su Netflix allora io ho io ho risapuntamente proprio il potere di scegliere dei film di merda proprio se c'è un film di merda su tutto il catalogo Netflix io lo becco a caso ok quindi ormai sono rassegnata al mio destino e scelgo dei film a caso tipo quando mi devo un attimo che sto a mangio non c'ho voglia di guardare il computer eccetera ecco sto film che è già il secondo che mi capita allora il primo iniziava con un cosa così in primo piano e tu dici ma in che senso scusa ci sto mangiando in isolata ma allora quello là si chiamava mi sembra Love se non mi sbaglio e l'altro invece era l'ultimo che ho visto che c'erano 25 24 minuti tipo di scena hard come 24 minuti iniziali che poi ho scoperto che era il seguito di un altro quindi probabilmente l'avranno lasciato in sospeso dal primo dovevano finire la prestazione e si chiamava ah ho iniziato a vederlo i primi 25 minuti ho dovuto stoppare perché stavo lavorando e quindi non c'era più ma non c'erano lavorate o mangiate ma vi pare che cioè ma serio giuro guarda quello lì era un film che mi ha fatto talmente cagare che non riuscivo a smettere di guardarlo perché dicevo non può essere cioè deve succedere qualcosa di interessante niente non è successo e e però diciamo a parte queste breve parelisi tutti i film fanno vedere queste scene di sesso meravigliose no sì ragazzi ma durano meno di un minuto vabbè voglio dire puoi anche trovare la super però meno di un minuto allora io sottolineerei invece un altro aspetto che è quello che un po' infastidisce me no allora tu trovi il multimiliardario è ok apposto che c'ha una casa incredibile ti viene a prendere con il jet e ti porta insomma a casa sua perché però se dura meno di un minuto due domande te le fai infatti non vale la pena comunque ragazzo apprescite quanti soldi non vale la pena però io dico no il caso di 50 sfumature di grigio beh che è il scenario di base questo qui non lo devi vedere se non quando da contratto c'è scritto non ci devi dormire insieme perché lui gli dà fastidio ma meno male cioè c'è una camera che è tutta per te una camera stupenda una roba fotonica nel contratto lei ha anche ottenuto di andare tipo a cena fuori e chissà dalla porta di insomma viaggi eccetera questo è il punto che ti ha colpito di più vero no mi ha colpito di più che questa deficiente non mi andava bene cioè ma le donne devono sempre rompere i coglioni ma perché adesso Game of Thrones l'avete visto? sì ovvio tu l'hai visto fra? no non ho capito Game of Thrones l'hai visto? beh la prima serie giuro no vabbè allora se lo devi guardare tu te lo cerchi di scena tu l'hai visto Giorgia? ovvio però tu i 25 minuti no? di si eh adesso la scena dove questa viene data in moglie contro la sua volontà quel bonazzo di Momoa e mentre capisce che gliela deve dare piange cioè ma ne vogliamo parlare e poi in realtà flirtava pure comunque non è che c'era tutto questo grande spauracchio quindi in realtà non è che le faceva poi così così tanto schifo eppure non è che gli hanno dato il fratello brutto che c'era nei cosi di Fantagiro eh Fantagiro è dei miei tempi scusate comunque quello che è brutto con l'hab tutto sbavuoso cioè Giorgia Momoa voglio dire è vero che magari non sei proprio felicissima perché ti hanno promessa uno che non ti piace però il lato positivo va trovato infatti sono pienamente d'accordo sono pienamente d'accordo e quindi sconsiglio la visione di questo genere di film se non volete restarci male esatto io faccio delle cioè in alcune sessioni chiedo i film perché magari ci sono delle persone che sono un po' insoddisfatte ma non riescono a capire bene cosa allora la visualizzazione di certe cose aiuta a identificare i problemi allora do dei film dopodiché chiedo i commenti di questi film ed emergono un sacco di cose e in realtà quando poi tu smonti il film che sarebbe l'idealizzazione di certi concetti vedi proprio che la gente dice cioè ma io mi sono martoriata al cervello e anche un po' i coglioni con questa roba per tutto sto tempo e poi era così e io non ci avevo pensato fa riflettere dite il primo film che vi dirà a mente in tema romantico sì storia d'amore cose di questo tipo no non lo so non li guardo non li guardi ma li fai guardare no è vero però in realtà li guardo quando sento parlare troppo di una cosa li guardo tipo l'ultima roba un po' così che ho visto è stata Bridgerton ah sì e lì ho capito perché le coppie uomo-donna non funzionano spesso cioè perché cozzano uno contro l'altro poi ve lo devo dire no è una sezione con me hai capito lei non sa monetizzare no mi sto esercitando se no poi Ludo mi fa il culo nessuno nessuno è immune da Margherty's Gamma no allora Bridgerton allora tu vedi questa qua che è una serie tv con non mi ricordo quante puntate ma tutte fatte di preliminari ma neanche tanto esposti no quindi tipo sì ti guardo però no ti sopra una caviglia però no sì guarda ti insulto però in realtà no e le donne crescono così meno la tua meno la tua autostima e poi c'è lei tipo super che è super vergine ma proprio vergine anche di cervello nel senso che non sapeva proprio come nascessero i bambini e lui che sembra quello che invece la guiderà verso le vie della perdizione effettivamente poi succede però capisci che le donne crescono guardando queste robe qua gli uomini crescono guardando il porno poi dopo le due visioni si incontrano e tu dici ma io mi aspettavo Bridgerton io mi aspettavo di vederti così quindi ragazzi guardate il porno non abbiate paura c'è solo tanto da imparare ragazzi guardate Bridgerton così poi magari fate bella esatto si riuscite a capire meglio è importante capire il punto di vista dell'altro nella relazione il famoso pov povero famoso povero che incontra Margherita e comincia coaching mentale con lei povero barra povera va bene come? tengo un sacco di persone in questo ambito sessuale eh sì non ho notato abbiamo cominciato con ho fame come faccio a ragazzi comunque il sesso guardate il porno che comunque anche quando hai fame voglio dire comunque a me un po' la fame mi è passata quando mi sono trovata questi e vedi questo smantrappone in primo piano mentre va bene cioè la prendo bene però mi sembra un po' è un po' troppo un po' troppo ma comunque comunque siamo tutti posso dire una roba professionale esiste la bulimia sessuale e spesso è associata alla bulimia normale quindi non stiamo parlando di robe proprio fuori tema sono ricomposta posso dire una cosa? sì mi touch basta 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 e film che mi è venuto in mente perché mi sono forzata a vederlo ho detto no io devo vedere tutta la saga è stato Twilight ragazze Twilight perché volevo capire il punto di vista di Bella cioè della serie no? perché hai dubbi questo sembra che sta a spirà da un momento all'altro quell'altro è bello prestante e tutto e invece niente ho capito il punto di vista è bella completamente ma questi film sono la rovina delle ragazze del cervello umano perché ti innescano quel concetto di amore dove tu devi metterti con uno super problematico super introspettivo super che non si capisce una mazza che c'ha un sacco di problemi che tu ti devi accollare e poi nel film appunto è sempre ricco e vampiro che ti crea l'immortalità e l'eterna giovinezza ma nella vita questi sono degli psicopatici con la sindrome del disturbo post-traumatico da stress che ti creano solo problemi e poi alla fine ti sputtano la vita cioè voglio dire no? però devo dire che c'è una scena dove lei va verso l'altare che è molto bella sì perché dice al papà non farmi cadere no perché mi piaceva la camminata nel bosco e la canzone a me ha colpito lo sguardo verso il papà dai fra esci un film così ci salutiamo che io c'ho il pasto cioè non so tema io devo andare a recuperare il figlio in tutto qua io se penso un film che avrò guardato almeno boh non lo so ma credo che una cinquantina sessantina di volte nell'arco della mia vita quindi voi adesso direte quanto tempo hai da perdere no no Marghe prendi carta e penna così cerchiamo di capire meglio poi ci sentiamo fra come? poi ci sentiamo certo posso aiutare certo grazie mi piacerebbe comunque è Titanic o Titanic cosa ne pensate? che scelta strana no ragazzi io ero ma vabbè è uscito che io cosa avevo 8 anni 9 anni non lo so e l'ho guardato tantissimo l'ho guardato tantissime volte quanti anni avevo 8-9 anni mi sono un attimo traumatizzata perché per me forse ero già le superiori ma vabbè più piccola io sono la più piccola il gruppo eh tu sì io sono sempre la più vecchia quindi ormai non mi faccio la domanda no sono contenta per i soliti ormai sono sempre la più vecchia anch'io quindi grazie ragazzi grazie grazie chiamami e lo faccio e niente perché Titanic? perché questo mix tra insomma perché per una volta è lui lo sfigato tra virgolette che non è sfigato cioè capito è tutto il contrario della in realtà non sei romantica sei solo sadica va bene mi rivedevo più in lei non va bene non è vero non so mi cioè vabbè un po' perché vabbè un po' di crash su su Leo io l'ho avuta non so voi magari eh sì ed era un secchino all'epoca cioè capite che era più non ci siamo con questi lineamenti così no tutti precisi così troppo troppo bello a me serve la faccia più da non lo so più rude sì ma 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 adesso cioè è cambiato anche quello anche il viso di quello che piace a me è cambiato ma all'epoca era così cioè per anni sono ho avuto anche diversi fidanzatini che somigliavano un po' a lui con questo lo dicevi il capello un po' un po' così un po' biondino lunghino vabbè la cotta e niente poi c'è anche un po' di erano le mie prime scene di sesso alla fine cioè prima dei porno c'è stato un po' di Titanic che adesso non ricordo bene sinceramente cosa facciano vedere però quella mano sul vetro ricordo che mi rimase impressa per molti anni è si si eh Marghe ti stai tenendo vai esplodi vai vai tanto io finisco il caffè no no non mi stavo tenendo stavo riflettendo su Titanic però si effettivamente la visione iniziale che per una volta è uno sfigato e lei che invece ha la vita in discesa va bene vabbè lui comunque rimane è sfigato perché muore quindi c'è proprio un sicuro a me di Titanic mi facevano morire poi tutti i meme che c'erano con le posizioni per le quali ci sarebbero state tutti e due non le conosco non le ho mai visto sulla zattera finale perché voi siete giovani ragazzi probabilmente non avevate ancora Facebook comunque c'erano tutte queste immagini con tipo lei e la sagoma di lui disegnata dicendo ci stavano entrambi molto interessante molto molto interessante quindi dai concludiamo in realtà con questa nota romantica grazie fra grazie perché stavamo veramente prendendo una bruttissima piega e comunque anche lì l'amore della vita ma alla fine uno dei due schiatta la nota negativa c'è sempre a me ha fatto sollevare soltanto un tema soltanto un tema che forse possiamo approfondire dopo no perché fra ha detto è perché per una volta era lui lo sfigatino no e quindi magari forse mi riconoscevo in lei però non è detto perché quando si vede un film non è detto che ci si riconosca nel protagonista femminile o comunque in un personaggio femminile pur essendo donne questo è qualcosa che a me succede spessissimo e sempre maschio sì difficilmente sì sempre maschio sa perché in ognuno di noi c'è sia componente sia componente femminile o componente maschile evidentemente quella maschile è predominante al prossimo podcast tipo venite tutta a casa mia e ne riprendete mentre io parlo con le serie tv sì però farmi dormire a una certa perché non se ne può cioè come dormire la mattina ho capito ma io la mattina c'ho da fatto salutare il sole un sacco di saluti da fatto ho capito ma guarda che quello sta sempre lì pure a mezzogiorno non solo che è la finestra poi ti sporgi bella tutta a posto anche oggi sei lì bene ok ti ho graziata non ho fatto i vocalizi non ho fatto il mio quindi si ingrata guarda che io la settimana scorsa mi sentivo come se stessi smaltendo il jack leg ti mancavo no non capivo più che ore fossero cioè una mattina fra siamo uscite no e non so a che ora mi sono svegliata fatto sai che siamo uscite erano tipo le otto meno un quarto e io me da giornata facevo manovra e dicevo ma perché stamattina vanno a lavorare le dieci e mezzo e poi io no sono le otto meno un quarto che cazzo ci faccio svegliare allora nel senso perché io ho questo problema tra i tanti vabbè sono piena mentali se vado a dormire a mezzanotte l'uno alle due io comunque alle quattro e mezza cinque sono sveglia a prescindere non riesco a dormire di più però non rompo le palle al prossimo cioè io ti ho peso anche i quadri in casa alle quattro e mezza del mattino te ne sei accorta? no io sono totalmente autonoma faccio il mio no se mi viene voglia di spostare mobili verniciare faccio tutto poi quando una persona normale si sveglia lo so alle otto del mattino trova i cambiamenti però non si accorge di niente e quindi questo mi ha mi ha reso possibile essere me stessa negli anni nel senso che faccio a prescindere senza rovinare la vita agli altri detto ciò a chi ho sperimentato il jet lag nel senso che mi faceva strano addormentarmi avendo il silenzio tipo te che non scrivevi al computer o che non usavi colori o che non ti alzavi ogni tre per due per andare a prendere un altro quanti cazzo di colori ti servono per lavorare non si sa tipo guarda io nei primi due giorni i primi due giorni ho retto al terzo giorno la guardavo poi stavo sul divano la guardavo la serie io casa io mi sto spegnendo io spegno lei è stata così carina perché mio figlio era in vacanza e quindi lei per non farmi sentire insomma un po' il vuoto del nido è venuta a casa mia esattamente con gli stessi ritmi e anche con gli stessi tempi di latenza tipo i bambini tu li vedi sono le persone più felici del mondo dopo adesso sono del tipo rock star in crisi di astinenza poi hanno sonno non è che dice sonno dormi no si riavviano in modalità ubriaco molesto vabbè ti toccavo qual è il problema lei tipo e di riccardo se era contento di questa cosa sono zillissima ma dietro ma sonno ma non ce la faccio poi si si mette sul divano e dopo un po' così ci sono no 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 lo faccio io ma cosa devi fare tu no 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 lo faccio io lo faccio io e tu la guardi come per dire ok meno male che conosco il suo cervello e so che comunque bene o male è a posto meno male che la conosco e quanto pare non l'ha mai morso nessuno sei al sicuro ma tipo passa da un momento ah stima dove poggi i piedi nascono i fiori tipo ti sve tu sei lì la guardi e ci ok guardi come me vabbè comunque è facile dormo quelle tre quattro ore però quella è la glicemia no quella è la glicemia quella è la glicemia ma non è colpa mia l'oio policistico ce l'ho mai colpa mia poi andavamo in giro lei come si vede che sei una mamma c'è tutto quello che ti serve nella borsa no veramente ragazzi è una cosa incredibile di tutto ma le cose più improbabili cioè la salvietta umidificata era il meno ma veramente della serie che ce l'hai un cavatappi aspetta ma quella non è perché sono madre è perché è perché sono abituata a gestire il karma che cosa fai il karma Marghe che fai il karma è un buonissimo insegnante ma finché tu non l'hai imparato siccome lui è meticoloso ti perseguita perché lui proprio vuole che tu impari bene e comunque ragazze il tempo salutiamo ragazze si diverte ma io ho un figlio devo andarlo a recuperare sì io ho uno stomaco con il cardio da fare mi spiace se voi ne parliamo no no sto a posto anche meglio dopo aver finito smettila di voler parlare con le persone nessuno vuole parlare con te hai parlato con la persona tra l'altro che mi sei simpatica ma in chi ci voglio parlare con te parliamo capito come sento tipo no il esempio io sono l'uomo io sono l'uomo Marghe è la mia compagna e vabbè decidiamo di fare una cosa a tre di coinvolgere un'altra donna perché ci va così e poi io vengo completamente snobbato no e che lì per lì la cosa è anche divertente poi dopo anche no no è che allora vedi che tu non capisci pensi sempre male sei proprio una femmina io devo testarla per capire se deve entrare nel trio è giusto quindi le faccio una rapida scansione dopodiché beh mi ripeto lei non parteciperà mai più mai più al podcast perché è esausta è ubriaca non ce la fa più non ci sono quante dei pacchi quindi allora io ringrazio chi ha ascoltato chi ci ha ascoltato fino ad ora veramente ragazzi state peggio state peggio di noi e ci salutiamo e ci ascolteremo presto rivedremo se state guardando il video su youtube e grazie ragazzi a voi per aver partecipato che bello delicatissimo delicatissimo va bene un bacio a tutte ciao 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 Ehi, 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 ehi.